Le esperienze raccolte dal giornalista Fabio Bolzetta hanno fatto da colonna portante all'incontro oltre la pandemia storie vere, anticorpi di speranza, la comunicazione ecclesiale al servizio del cammino sinodale che si è tenuto ieri pomeriggio a Nocere Inferiore. L'iniziativa promossa dalla diocese di Nocere Inferiore Sarno, in particolare dal mensile insieme dall'ufficio comunicazioni sociali, ha coniugato due momenti. L'incontro dei referenti del cammino sinodale e la festa di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti. E' proprio sugli aspetti della corretta informazione e comunicazione che si sono soffermati Bolzetta, che è anche presidente di UECA, web cattolici italiani ed il vescovo Monsignor Giuseppe Giudice. Penso che sia opportuno in questo momento in cui, come chiese in Italia, ci siamo messi, abbiamo appena iniziato, ma abbiamo una lunga storia di un cammino sinodale. E i mezzi della comunicazione, gli ambienti digitali, le piazze dove si comunica, oggi sono molto importanti. Però sappiamo anche che dobbiamo avere grande rispetto per la comunicazione e specialmente oggi è in difetto la comunicazione ecclesiale. Ecclesiale perché sicuramente c'è un deficit nella formazione ecclesiale e molti si riferiscono soltanto ai titoli del giornale, a qualche notizia letto così, soltanto di svisto, di corsa. E quindi il senso profondo della Chiesa viene meno, viene meno. Mi piace citare oggi un testo che è tra le perle del Magistero di Giovanni Paolo I, che è il 78, in quel spazio così breve, quasi lo spazio di un sorriso, parlando dei giornalisti, faceva notare questo. Qualche volta voi sarete chiamati a presentare un documento della Chiesa, qualche incontro del Santo Padre. Ecco, fatelo sempre con grande verità, per contribuire a una formazione e a una coscienza ecclesiale di cui abbiamo sempre bisogno. Io penso che il cammino sinodale, il cammino delle nostre chiese non può equipararsi ad altri cammini, perché dobbiamo attingere certamente al dato della fede e con la fede saper dialogare con tutte le culture, stare nelle piazze mediatiche, però starci con grande rispetto della verità, perché la verità per noi ha la lettera maiuscola. Sul tema della comunicazione la pandemia ha fatto riscoprire mezzi che in realtà già esistevano, strumenti per comunicare a distanza non sono nati durante questo frangente. Le abbiamo scoperti? ci siamo entrati, le abbiamo utilizzate. Ora però occorre probabilmente un giusto discernimento, cioè ragionare insieme su che cosa, dal punto di vista comunicativo, prendere e che cosa lasciare del periodo che abbiamo vissuto. Dunque, strumenti che possono aiutare a tenere in piedi relazioni. Certo, in presenza, questo è importante, ma il digitale deve unirci per creare anzitutto il senso di comunità. Grazie. Grazie.